C'è un altro modo di chiedere il voto ed è quello che abbiamo provato a costruire insieme tutti e tutte con Roberto, con Angelo, con Benedetta, con Dejan, con Marco, con i candidati, con le candidate dal nord al sud di questo Paese. È il nostro modo di fare campagna elettorale e non ce ne vergogniamo. C'è un modo di chiedere i voti che è quello di chi va in giro per questo Paese dicendo ciò che pensa, dicendolo senza giri di parole. Ha fatto bene Angelo a dirlo. A Gaza è in corso un genocidio e dovete fermarlo. Serve che qualcuno, l'Europa, l'Italia, metta in campo qualche azione. Lo diciamo da qui a Giorgia Meloni. Basta con l'ipocrisia. Sei venuta in Parlamento una, due, tre, quattro volte a dire Noi, il nostro governo è per una soluzione che preveda due stati per due popoli. Sì? E allora se non sono parole vuote, cara Giorgia Meloni, fai una cosa che puoi fare domani. Fai come la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia. Riconosci domani lo Stato palestinese. Riconoscilo. Chiedi che l'Europa sospenda il trattato di associazione UE-Israele, che ci siano sanzioni come in molti altri casi ci sono state. Basta.